Chi ha votato tra Cappellacci e Soru? Io sono andato a votare e ho fatto voto disgiunto. Ho votato Mario Bruno come consigliere e Cappellacci come presidente. Un po' di clavore intorno alla dichiarazione sul voto a Cappellacci del candidato del partito democritico alle primarie Stefano Lubrano. Che cosa ne pensa l'altro candidato del PD Gavino Scala? Io rispondo a una domanda normale. Io rispetto le idee degli altri, soprattutto quelle di Stefano Lubrano. Io ho sempre votato dalla parte giusta, anche perché la mia maglia la conosco talmente bene da non confondertla con quelle degli altri. Ed Enrico Dara? Diciamo che è una dichiarazione forte. Si può interpretare in due modi. O che siano le idee molto chiare o che siano le idee poco chiare. Ma qualsiasi sia l'interpretazione che si dà, una cosa è certa. Il programma del PD è un programma che è stato fatto attraverso lo sforzo di tantissimi amici, simpatizzanti, persone della città. Mi auguro che Stefano lo abbia letto molto bene. Ed è inequivocabile il respiro che questo programma fornisce alla città e soprattutto ad una visione innovativa che noi vogliamo proporre. È inequivocabile il programma e non può prevedere né ora né mai un voto al centro-destra né tantomeno a Cappellacci. Grazie. 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 Grazie.